10 nuovi bus elettrici per la flotta del trasporto pubblico romano. La settimana europea della mobilità si è aperta all'insegna della sostenibilità. Sono stati presentati ieri infatti nuovi 10 mezzi prodotti da Mercedes-Benz. Entreranno in servizio entro settembre sull'8.1 del trasporto della periferia, ovvero quello affidato ad autoservizi troiani. Altri 10 bus arriveranno entro la fine di ottobre, mentre ulteriori 40 nuovi mezzi saranno disponibili entro gennaio 2025. Lunghi 12 metri hanno un pianale ribassato e sono dotati di postazioni e rampa per l'accesso delle persone con disabilità. Sono a trazione totalmente elettrica, le batterie di nuova generazione installate su veicoli consentono un raggio di percorrenza di circa